Ecco, quello lì era Jakob Ackman, tornate indietro e aggiungetelo su PlayStation Network. Oggi ci farà vedere la scommessa di un colpo in canna, sperando che vada bene. E vabbè, buon divertimento. Sarò il vostro commentatore, queste sono le sacre mani di quello che giocherà. E...quasi finito di caricare, eccolo. E tre, due, uno, e via. Desceso quindi all'inizio della partita. Tre, due, uno, e la partita inizia. All'inizio non troverà nessuno. Sbaglia il primo colpo. Cerca di raggiungerlo e lo coltello. E prendi anche l'altro. Arriva a sì. Siamo secondi in posizione. Primi. C'è magia nelle sue mani. Attenzione. Rimangono pochi giocatori. Ecco che Jakob Ackman finisce i proiettili. Deve riuscire ad accoltellare l'emico che sta lì. E ce la fa. Ricco sfondato. Pochissimo è durata la partita. Lui si chiama Jakob Ackman. Tornate indietro nel video. Accettatelo. E lui vi accetterà. Forse. Bene. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al mio canale. Dr. Fanpod. Che oltre appunto a queste cose di guerra abbiamo anche giochi di magia e origami. Ciao.